Ciao ragazzuoli, sono il 4 di notte e ho appena finito di editare il video. Lasciate un bel mi piace, passate da Twitch, il link qua sotto nella descrizione e buona visione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel terzo episodio della carriera allenatore con il Cittadella su FIFA 20. Vi ricordo di mettere il mi piace, mille mi piace e anche domani uscirà un altro episodio. Vi ricordo che ogni giorno alle 15 sono in live su Twitch, quindi passate per vedere tutto quanto quello che non riuscite a vedere poi nel video completo. Detto ciò andiamo a giocare la partita contro la Juve Stabia che sono carichissimo anche poi per l'ultimo giorno di mercato. E niente, andiamo a giocare quindi questa partita. Questa è la partita che dobbiamo assolutamente vincere l'esordio in campionato. Ciao gufo e speriamo che non guferai per questa partita. Siamo fuori casa contro la Juve Stabia, siamo il Cittadella da oggi. Tutti quanti gli iscritti di Yas e i follower su Twitch di Yas devono tifare Cittadella. Non mi interessa niente. Detto ciò andiamo a giocare questa partita e forza Cittadella, forza Cittadella. Branca per Diouf, attenzione, Diouf si porta il pallone indietro, attenzione, il tiro bruttissimo, mamma mia. A me spaventa la CPU perché possono fare quello che vogliono in qualsiasi momento. Attacchiamo, palla per Diouf, per Diouf, attenzione, c'è Diouf, attenzione, c'è un po' di spazio. Vai Diouf, vai Diouf, tira Diouf, tira Diouf, Diouf, arriva il gol, all'ottantanovesimo. Ciao El Castro, grazie per il follow, Diouf, golasso di Diouf, mamma mia che sofferenza. Mamma mia che sofferenza, che gol. L'unica cosa che non volevo era perdere questa partita. Rimessa per loro, dai, sta per finire anche il recupero. Bravissimo Rizzo, butta la via, butta la via, no, 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 no. Non è fuori gioco, non è fuori gioco. Paleari, sta per finire la partita, calcio d'angolo a Juve Stavia, vai, Paleari con i pugni fuori. Ancora per loro, non è fuori gioco, l'arbitro fischia. Finisce la partita, prima partita, prima vittoria, primi tre punti fondamentali e meritatissimi per il nostro Cittadella. Mancano le dieci ore e dobbiamo finire il mercato. Però a questo punto io, aspettando intanto Strefezza, quindi avanziamo intanto con il mercato. Non arriva niente, non arriva neanche Strefezza, avanziamo un'altra oretta, poi ci fermiamo. Ok, è arrivato un'email, vediamo un attimo se si tratta proprio di Strefezza, dovrebbe essere. Ok, Strefezza accettato, benissimo, benissimo, quindi dovrebbe essere già arrivato. Vediamo un attimo se è così, perché mi hanno detto che già la prossima partita può esserci. E infatti eccolo qua, molto bene, molto bene, un 62 di overall. Forse mi aspettavo qualcosina in più, considerato che gioca in serie A, ha 22 anni, è veloce e tutto quanto, però le altre statistiche lasciano un po' a desiderare. Ok, sembra che comunque state votando tutti quanti la maggior parte l'eco, manca poco. Ok, sono i 10, ha vinto l'eco con il doppio dei voti, va benissimo. Andiamo con l'eco, facciamo subito quindi l'offerta per il prestito, vi ricordo, per l'eco. Quindi facciamo un anno, siamo d'accordo a cederlo. E loro vogliono che paghiamo l'80%, che sono 10.000 di stipendio, sono tanti eh. Facciamo una controfferta e facciamo 50%, che sono 7.000 quasi, che è un po' più ragionevole. Ok, sono abbassati. No, ho sbagliato di nuovo. Che palle, che palle, come l'altra volta. Ho fatto 75, 25. Le ho offerto 10.000 di stipendio. E vabbè, chiaramente accettano. E vabbè. Allora, intanto andiamo avanti, perché abbiamo fatto comunque l'offerta per l'eco. Anche a 7 ore ci arriva anche un email, potrebbe essere un'offerta di trasferimento. No, ho rifiutato il prestito di leco. Ok, è una brutta notizia, ma può essere anche una buona notizia, perché possiamo concentrarci su qualcun altro. E non perdiamo 10.000 di stipendio, che sono tanti i soldi. Facciamo l'offerta allora per Obafemi. Che, prima con il sondaggio, anche se gioca in Premier, lui gioca in Serie B inglese, non è venuto a venire. Lui, penso che non accetterà. Però andiamo a fare... No, non vuole neanche venire. Ok, Obafemi niente. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Facciamo un'offerta per Carbonero. Poi vediamo. Poi vediamo. Facciamo un'offerta per Carbonero. Facciamo l'acquisto. Carbonero. Può andare dentro qualcuno. E poi valutiamo. Può andare a Gargiulo? Ok, lo vogliono, ma vogliono un milione e quattro. Allora, è abbordabile. Possiamo permettercelo. Ci stanno chiedendo due milioni. Proverai a fare 700 mila. Ok, ci chiedono la clausola. 3% e 990 mila. Proviamo in questo modo. Secondo me... Ok, un milione e uno. Saliamo nove. Calcoliamo che è anche l'ultimo giorno di mercato. Quindi, chiaramente, le squadre, soprattutto se sono giocatori che non sono in vendita, cercano di non venderli a tanto. Ok, ok, hanno accettato. 900 mila più un nostro esubero. Secondo me è una buonissima offerta per un esterno che può fare sia il destro che il sinistro. Se vi piace facciamo subito l'offerta e lo andiamo a prendere. A me mi intriga perché, come vedete, sembra molto veloce e un esterno ci serve. Un esterno ci serve assolutamente. Ok, ok, perfetto. Andiamo a trattare, andiamo a trattare. Ora, con il contratto, speriamo che ci chieda lui i soldi. Accetta. Se non ci chiede lui i soldi... Eh, cazzo. Quanto gli devo offrire adesso? No, cavolo. Mi dovete dare una mano anche stavolta, regà. Dovete darmi una mano. Non so quanto prenda di ingaggio, non so nulla. Quindi, datemi una mano voi. Ok, proviamo 3000 senza bonus di ingaggio. Mi sto affidando di voi. È tutto nelle vostre mani. Mi serve un'offerta equa. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Avete un futuro come mini raio. La grande chat. È arrivato il nuovo giocatore. Penso anche l'ultimo di questo mercato. È arrivato Carbonero dopo una lunga sudata. 67 di euro. Uh, questo è buono. Questo è un gran bel acquisto, regà. Questo è un bel, bel acquisto. È molto veloce. Sembra anche abbastanza tecnico. Questo si è allenato. Può essere un gran, gran bel giocatore. Siccome abbiamo fatto un gran, bel acquisto. Grandi regà. Ok, ci arrivano i mail. Speriamo sia un'offerta. Non per dei giocatori nostri importanti. Per panico. Uh. Attenzione. Per panico. Un milione e quattro. Che dite? Lo diamo via o no? Che dite? No, no, no. Ok, vi state dicendo tutti no. E se proviamo a trattare e chiedere tipo... Tre milioni? Però mi state dicendo tutti no. No, no. Ok, ok, no. Ok, rifiuta. Rifiuta. No, vi ascolto. Vi ascolto assolutamente. E quindi direi che a questo punto terminerà il mercato in questo modo. Un mercato molto movimentato. Vi faccio vedere un attimo. Ok, cittadella. Eccolo qua. Abbiamo speso 6 milioni e 3. Abbiamo guadagnato 4 milioni. Quindi comunque un mercato in cui siamo rientrati bene degli acquisti. Abbiamo speso 2 milioni e 3 al netto di tutto quanto. Quindi, secondo me, siamo andati molto molto bene. Andiamo quindi a terminare il mercato. Ci arrivano anche delle email che penso siano dei resoconti, ma ormai non ci servono più a nulla. Ok, offerta per Frare che è dal Chirona, però andiamo a rifiutare perché Frare deve restare. Adesso, che già state facendo ma ve l'avrei chiesto, date un voto a questo mercato. Date un voto a questo mercato. Anche voi su YouTube, qua sotto nei commenti, date un voto al mercato. Sono molto curioso, l'abbiamo fatto insieme, quindi il voto che date non lo date soltanto a me, ma anche a voi questa volta. Quindi siete anche voi i responsabili. Però, secondo me, abbiamo fatto veramente un bel mercato perché, vedendo qua la rosa, abbiamo migliorato tanto. Abbiamo preso Diuff in attacco, abbiamo preso Sottil, che è anche già cresciuto. Kuai a centrocampo, Carbonero è arrivato proprio nelle ultime ore di mercato. Poi abbiamo preso Mangraviti, abbiamo preso Yusuf, abbiamo preso anche Strefezza in prestito. Andre Anderson, quindi abbiamo fatto i bei acquisti, abbiamo preso degli giocatori che miglioreranno tantissimo la squadra. Qua state dicendo 7, 7 e mezzo, 8, un bel po' di 8, voto mercato 9. Ok, simuliamo l'allenamento, cresce Yusuf, diventa 67, cresce Plecher, diventa 65, molto molto bene. Ora andiamo a fare la primavera, andiamo a fare la primavera. C'abbiamo i soldi per farla, andiamola a fare. Ci spenderemo poco perché siamo una squadra di serie B, non possiamo neanche prendere questi, quindi anche volendo non potremmo. Prendiamo Bruno Carmona, che è spagnolo. Prendiamo questo qua francese, altri 19.000 e speriamo qua che mi ne diano almeno uno decente. No, niente. Polacco, ok, sta dicendo tutti polacco, ok. Questi sono gli osservatori che abbiamo scelto, ora li dobbiamo mandare da qualche parte. Allora, voi che paesi li mandereste? Allora uno, fatemelo mandare a me e lo manderei assolutamente, tipo questo qua spagnolo, lo manderei assolutamente in Sud America a cercare talenti o Brasile o Argentina. Non so cosa preferite, io farei a Brasile. Però ne mandiamo solo uno in Sud America, perché in Sud America si trovano i migliori, però non ha senso mandagli tutti in Sud America. È ovvio che una squadra di serie B non ha il budget di avere osservatori in tutto il mondo. Facciamo nove mesi, così fino alla fine della stagione, poi magari li cambiamo questi. Però secondo me per la prima stagione serie B, una stella, spaccano. Questo qua lo manderei in Francia e questo qui lo mandiamo in Italia, anche se è polacco, non è proprio il massimo, però tant'è che non si può avere tutto dalla vita. Ok, facciamo così, li ho mandati che cercano qualsiasi cosa, così non ci trovano di tutto. Hanno una stella, quindi comunque è difficile che trovino roba decente, però secondo me nell'arco di una stagione intera un paio di giocatori buoni li potremmo riuscire a trovare. Ora andiamo a giocare la partita contro la Virtus Entella, siamo in casa, quindi sarà una partita veramente molto molto tosta. Ci chiamo con queste maglie che vanno benissimo, leggete in cinque minuti, ci vedremo direttamente al tombolato. Eccoci qua al tombolato, seconda partita dell'episodio, seconda partita di questo campionato di serie B. Siamo contro la Virtus Entella, che era una delle squadre che potevamo scegliere per questa carriera, ora ce la troveremo contro. E siamo carichi per questa partita, finalmente è finito il mercato, che è andato molto bene, è andato veramente molto molto bene. E ora andremo a testare un attimo i nostri giocatori. Chiaramente il nostro obiettivo è quello di raggiungere i playoff e dovremo fare bene sin dall'inizio. Il campionato è molto lungo, molto difficile, ma dovremo fare tutto bene. Comunque è iniziata la partita e ora concentriamoci sulla partita. Mi raccomando, tifo nella chat, voglio vedere tifo nella chat. Emote di tifosi, di tutto quanto, voglio vedere carichi, tutti forza Cittadella, magari faremo anche delle emote con il Cittadella più avanti. Adesso vedremo subito, c'è Sottil che è in posizione regolare, Sottil, il passaggio dentro, perdiò il palo incredibile, il palo non è ancora lì. No, non ci credo, no, 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 non è possibile. Ma che roba ha fatto il loro portiere? Sta facendo bene, quindi teniamolo dentro, bravo frare, ma la palla è ancora per loro. Jacopo Dezzi per Mazzitelli, loro hanno una bella squadretta per la serie B, larga per Morra. Il cross è dentro, paratona di Paleari, il pallone è ancora lì. Se non vi leggo tutti, comunque vi sento tutti con la vostra forza. E arriva il gol, incredibile. E qua ha messo il pallone dentro e con il mancino ha messo sotto le gambe. Siamo stati anche sfortunati qua, non l'abbiamo marcato bene. E arriva il gol del Virtus Entella. 1-0, anzi 0-1 per loro. Dai, 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 siamo ancora in partita, siamo ancora in partita. Franca, con il pallone. Per Carbonero, c'è Diò che c'è ancora un po' di spazio. Vai Diò, c'è anche Diò che fa rimorchio, ma deve andare da solo. Diò, prova il tiro! Ha sbagliato veramente? Ha sbagliato veramente? Riga, ok. Va sull'esterno Diò, c'entra, bravissimo, il passaggio dentro per Diuff, che riesce a passare Diuff! No, 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 qua c'è qualcosa che non quadra. Com'è possibile sbagliare un gol da lì, ma com'è possibile? Un altro pallone recuperato da loro, eh, sto perdendo troppi palloni e sto sbagliando io. Uh, perdo un altro pallone. Carbonero, Carbonero, palla alta per Diò che riesce a tenerla in posizione regolare. Diò se ne va via. Diò, il pallone, attenzione, può provare il tacco. Bellissimo! Per Quanno! L'aveva tirato benissimo la parata del portiere. Cavolo, che bella azione. Mamma mia. Tifo in chat, tifo in chat. Adesso serve più che mai. Il pallone è ancora lì. Per Diò, Diò. Tenzione. Rosafio. Mamma mia, non ha tirato. Carbonero. Prova ad andarsene sulla fascia. Deve sfruttare la velocità. Questa volta però non crossiamo. Troviamo uno spazio dentro. C'è Diò. Si gira. Diò non riesce a tirare il pallone. Ancora lì un'altra parata. Cos'è? Rigore! Rigore! Al 92esimo! Rigore! Calma. 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 Mamma mia, che culo. Mamma mia, che culo. Fatemi vedere. Non me ne sono neanche reso conto. Mamma mia. Questo è un brutto fallo da dietro. Ce l'hanno regalato. Vediamo chi è bravo nei rigori. Forse sono tutti scarsini tranne Diuf. Quindi andiamo con Diuf. Calma. 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 Proviamo a metterla di qua. Proviamo a metterla di qua. No, non ci credo. Ma ha tirato centrale. Non ci credo. F. Fango, l'ultima occasione. Il pallone è lì fuori. Vediamo. Vediamo se c'è un'ultima cosa. Cosa mi son mangiato. Cosa mi son mangiato. Porca miseria. Porca miseria. Diuf. Diuf. Che partita. Che sudata. Se ogni partita sarà così, sarà una carriera lunghissima. Mamma mia. Andiamo a fare l'allenamento. Dai, pensiamo alla prossima. Sono cose che possono capitare. Sono cose che possono capitare. Va benissimo. Va benissimo. Andiamo a giocare la partita quindi contro la Spezia. Dopo l'ultima sconfitta sicuramente vorremmo fare meglio. Le maglie vanno bene così. Andiamo a giocare subito questa partita. Ed eccoci qua contro la Spezia. Terza partita. Dopo l'ultima sconfitta dobbiamo riprenderci in campionato. Dobbiamo cercare di ritornare ad un risultato positivo. Peccato perché il secondo tempo l'avamo giocato benissimo. Ora pensiamo a questo avversario. Che è un avversario molto molto tosto. Dobbiamo tirare soltanto di più. Metterei subito il 4-2-3-1 da inizio partita. Vi faccio vedere quindi il modulo che sarebbe così con Andre Anderson dietro a Panico. Dio a destra perché mi sembra più veloce. Anche se in realtà forse metterei Panico qua e Dio punta. E abbiamo Yusuf e Iori qua. Farei così. E va benissimo. Va benissimo. Carbonero può allargare subito per Panico. Diamo spazio a questi giocatori che hanno giocato un po' meno. Allarghiamo subito per Andre Anderson che ha subito la prima occasione della sua carriera con il Cittadella. E mette il gol. Pensavo di averlo sbagliato anche stavolta. Andre Anderson. Il talento appena arrivato al Cittadella. Semia il suo primo gol dopo 5 minuti. Il numero 28 la sblocca subito. Gran bel gol. Se l'è messa bene e l'ha piazzata molto bene. Dai forza Cittadella. Però noi abbiamo l'occasione ancora per ripartire con Carbonero che non riesce a tenerla. Lo recupera Vignali ma recupera un buon pallone Carbonero. Secondo me è stato un buon acquisto perché è molto veloce come esterno. Bello qua Andre Anderson per Dio ha un'occasione. Attenzione possiamo provare subito il tiro. Dio la parata parte Ragusa. Prova a riprenderlo Ghiringhelli. Ragusa il cross dentro il colpo di testa. Arriva il gol. Ah peccato peccato. Il gol di Inzola di testa. Ci siamo fatti trovare un po' impreparati in questa occasione. E niente abbiamo subito gol. 1-1 tutto da rifare. Prima occasione per loro. La seconda. Ufff. Ufff. Mamma mia 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 mamma mia. Manca poco alla fine del primo tempo. Mangraviti per Andre Anderson. Il pallone dentro per Carbonero che non è un mancino. Bel tiro il pallone ancora lì. Dio gol. Non è fuorigioco. Gol. Dio. 1-2. L'abbiamo riportata in vantaggio. Grande Dio che segna il suo secondo gol di questa carriera. Qua Carbonero nonostante non sia mancino ha fatto un gran bel tiro. E poi Dio ha rischiato di buttarla fuori ma l'ha messa dentro molto bene. Arriva il gol di Dio. Arriva il secondo gol della serie B di Dio. Finora capo cannonier dalla nostra squadra. Ok 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 un cazzo stiamo attenti. Inzola. Uh c'è un buco in mezzo fatemelo chiudere. Inzola che ha segnato il gol dell'1-0. Ancora Inzola. Palo un altro palo. Carbonero il pallone è per Dio. Può allargare. Per Andre Anderson c'è un po' di spazio in mezzo. Attenzione possiamo anche allargare per Panico. Ancora per Andre Anderson. Mettitela bene. Andre Anderson. Doppietta di Andre Anderson. Arrivato dalla Lazio con furore. 1-3 al 56esimo. Gran gol di Andre Anderson. Una delle migliori intuizioni di questo nostro mercato. Un grandissimo giocatore. Con la numero 28. Non sbaglia. Allargato bene per Panico che gli ha rimessa benissimo. Ha trovato da solo e poi non ha potuto sbagliare. Grandissimo gol. Non so se Dio e Diof l'avrebbero messa dentro. Provassi a dire per ora la spezia con Giulio Maggiore che perde il pallone. Quindi possiamo provare ad attaccare. Perso un brutto pallone. Beh avvi i nostri difensori. Ma la palla ancora lì in zola. Dietro. Non facciamoci passare il tiro. Paleari. Che paratona Paleari. Mamma mia. Questo fatemelo vedere signori. Perché è stata una parata straordinaria sul tiro di Ragusa. Da fuori aree. Una paratona straordinaria. Ok Dio spazza la via. Senza pensarci. Non arriva il pallone a nessuno. Il pallone però ancora per loro. Ma siamo ben piazzati. E proviamo a ripartire subito. Dio non riesce a tenerla. Il palsaggio era troppo lungo. Ancora lì. Il pallone. Non facciamoci imbucare. Non facciamoci imbucare. Bravi. Abbiamo coperto bene. Abbiamo coperto bene. Ma la palla ancora lì. Arriva il gol. Non è fuori gioco. Qua non bisogna sbagliare niente. Arriva il gol di Galabinov. È arrivato il gol della spezia. Il 2-3 che riapre la partita al settantesimo. Benedetti per Yusuf. Non c'è spazio. Comunque Yusuf e Iori mi sono piaciuti molto. Soprattutto Yori mi ha sorpreso. Panico. Dentro per Andre Anderson. Proviamo sul primo palo. La paratona. Il pallone è ancora lì di testa. Non è entrata. Non ci credo. Però mi sa che c'è stata anche una deviazione. Probabilmente c'è stata anche una deviazione. No. Niente. Peccato. Mamma mia che occasione. Uh. Ma il pallone è recuperato. Diuffe. Lo riesce a tenere. Molto bravo. Diuffe. Voglio vedere che si riprende in questa partita. Strefezza. Primo pallone toccato. Panico. Bravissimo per Diuffe. Ti devi riprendere. Diuffe. Ti devi riprendere. Gole. Gole. Chiudo la partita. Non c'è discussione. All'ottantatresimo. Gole di Diuffe appena entrato. È questo che volevo. L'ho messo in panchina. Perché volevo dimostrargli che. Anche se è arrivato una buona squadra. Probabilmente il più forte della squadra. Deve dimostrare di essere. Della squadra. Deve dimostrare di essere utile per la squadra. L'ho messo in panchina. L'ho messo in campo. Per farlo entrare con la cattiveria. L'arbitro dovrebbe fischiare. Non ho tenuto il pallone. L'arbitro fischia. Finisce anche questa partita. Beh il risultato. 2 a 4. Meritatissimo. Meritatissimo. Andiamo a fare l'allenamento. Secondo me questi qua. Possiamo tenere lì ad allenare. Cresce Andre Anderson. Molto bene. E niente. A questo punto. Io direi che abbiamo fatto tutto. La primavera. L'abbiamo mandata. Chiaramente alla fine di questo mese. Ci arriverà il resoconto. Quindi potremo anche aggiungere i giocatori. Dalla primavera. Grazie mille a tutti. Spero vi state divertiti. Ci vediamo alla prossima. Bella raga.